In questo mese 1.400.000 italiani sono stati vaccinati, di questi 900.000 sono operatori sanitari. Questo è un grande risultato e speriamo che si possa procedere celermente con la disponibilità di altre dosi di vaccino. Ma per arrivare al risultato è indispensabile che tutti quanti partecipino alla campagna vaccinale e che lo facciano tutti i sanitari, soprattutto. Solo così potremo eliminare il coronavirus dai nostri ospedali e dalle nostre vite. Mi vaccino, ti proteggo. Grazie a tutti.